Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca e con il fatto tristissimo che ha caratterizzato, che ha funestato la giornata di ieri a Ferragosto. Due fratellini di Montesilvano di 11 e 14 anni sono annegati a Ortona nella giornata ferragostana. Il padre aveva provato a soccorrerli ma non riuscendo a raggiungerli è stato a sua volta tratto in salvo dai bagnini. Dopo ore di ricerche i corpi sono stati rimenuti, incastrati nella scogliera. Il servizio di Giuseppe Dintino. Tragedia di Ferragosto, Ortona, dove due fratellini di 11 e 14 anni sono morti sotto la furia del mare. Sarebbe dovuta essere una giornata di riposo e spensieratezza. Approfittando delle ferie, la famiglia di Montesilvano, ma di origini cinesi, si era recata sulla spiaggia di Ortona per trascorrere la giornata di festa insieme ai propri cari. Nessuno avrebbe potuto prevedere la tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, due bambini stavano facendo il bagno quando una grande onda li ha sbattuti contro la scogliera. Il padre ha assistito alla scena dalla battigia, si è immediatamente gettato in acqua per salvarli, ma a causa della violenza del mare o forse di un malore non è riuscito a raggiungerli ed è stato a sua volta tratto in salvo dai bagnini. La guardia costiera si è subito attivata per le ricerche e poche ore dopo i sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco hanno individuato i corpi dei fratellini incastrati nella scogliera, a pochi metri di distanza l'uno dall'altro. Le salme sono state trasportate all'ospedale di Chieti dove il PM di turno ha disposto l'autopsia. Cambiamo pagina, Guerino Testa, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, risponde alle critiche giunte l'altro giorno da parte dell'opposizione secondo cui la giunta Marsiglio sarebbe paralizzata. Testa ha anche commentato, ormai sventata crisi in regione. Vediamo. Dopo le nomine dei capi dipartimento regionali, esclusione di quello dell'ambiente, adesso gli occhi sono tutti puntati sulle attese nomine dei direttori delle ASL. Alle accuse dell'opposizione di una giunta Marsiglio troppo lenta risponde il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Guerino Testa. Ma sono polemiche sterili da parte di una opposizione che è consapevole che viene da cinque anni in cui ha fatto veramente poco e nulla il luso di abruzzesi e probabilmente questi primi mesi di giunta Marsiglio hanno dimostrato che in pochi mesi si può fare di più, in pochi mesi si può essere molto più concreti rispetto al passato. Molti dei direttori dei dipartimenti regionali nominati dalla giunta sono però delle riconferme o delle promozioni per uomini che erano stati scelti dal governo guidato da Luciano D'Alfonso. Io ritengo che bisogna mettere al posto giusto le persone che hanno esperienza, persone che hanno dimostrato di saper lavorare, persone che possono essere competitive e che possono essere dinamiche per dare concretezza al programma di governo. Sono arrivati curricula, sono stati fatti dei confronti e quindi io ritengo che oggi bisogna solamente lavorare. Io non mi iscrivo tra quelli che vogliono fare polemiche, voglio che tra cinque anni questa giunta si ripresenti di fronte al corpo degli elettori e torni ad essere ancora una volta maggioranza. Dopo che la Lega, primo partito all'interno della maggioranza, aveva alzato la voce e quasi causato una crisi in regione, adesso pare che pace è fatta. E anche Testa sottolinea la coesione in seno al governo abruzzese. Prima c'era un uomo solo al comando negli ultimi cinque anni dove nessuno poteva parlare, invece qui in maniera democratica abbiamo deciso che ogni tre mesi, ogni sei mesi si farà una verifica perché oggi anche la politica è sempre in divenire, cambiano le cose, succedono le cose e quindi è giusto verificare in maniera costante, trimestralmente e semestralmente, le cose fatte in negativo, le cose fatte in positivo, come sanare eventuali errori e cercare di essere sempre, come si vuol dire, sul pezzo. Forse un'unica pecca che posso rilevare è che noi abbiamo dato poco spazio alla comunicazione, sui giornali, sui social e anche sui territori, delle tante cose fatte invece da parte di questa giunta Marsilio che sarà meno sfarzosa ma sarà molto più concreta rispetto al passato. Più telecamere, più polizia, daspo urbano e sgomberi, è questo il pacchetto sicurezza presentato dalla Lega questa mattina presso il comune di Pescara per contrastare la microcriminalità. Gli esponenti del carroccio, d'accordo con il sindaco, promettono la riqualificazione delle aree degradate. In servizio. Telecamere con intelligenza artificiale a ogni angolo, poliziotte in borghese 24 ore su 24, e controlli di vicinato per poter denunciare il proprio dirimpettaio tramite Whatsapp. Non si tratta di un distopico romanzo di Giorgio Orwell ma del pacchetto sicurezza presentato dalla Lega al comune di Pescara. La Lega pone la sicurezza fra i primi punti della propria attività amministrativa. Oggi vogliamo dire alla città che cosa stiamo facendo, a che punto si trova, a quello che riteniamo essere il primo elemento per dare sicurezza ai nostri cittadini. Il primo elemento che noi riteniamo è il sistema di videosorveglianza. Poiché la percezione di insicurezza e la conseguente richiesta d'ordine sono sempre più elevate, la Lega intende reprimere la criminalità aumentando il numero dei vigili urbani ed equipaggiandoli con le controverse e pistole tese, definite strumenti di tortura da Amnesty International, ma anche potenziando il sistema di videosorveglianza. Tutte le telecamere che andremo a installare andranno posizionate ognuno sul territorio, confluiranno in una room che posizioneremo all'interno della Polizia Municipale, dove lì ci sarà l'analisi video contestuale di tutte queste telecamere. Parliamo dei numeri importanti. Poi la nostra missione è quella di recuperare le telecamere esistenti che sono oltre 100. A fianco a queste telecamere che sono 100 installarne altre 250 e da lì partire per un sistema di controllo organico, dove tutti questi dati fanno sì che andranno in queste centrali, dove verranno analizzati. Inoltre nel pacchetto sicurezza della Lega sono previsti l'attuazione del DASP urbano, introdotto dal decreto Minniti, e gli sgomberi facilitati dal decreto sicurezza. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, tra il gruppo del Carroccio e il sindaco di Forza Italia, Carlo Masci, l'amministrazione si mostra di nuovo compatta e coesa. Il sindaco è d'accordissimo, anzi, devo ringraziarlo perché mi sta molto vicino su questa tematica e mi sprono ad andare avanti. Le dico anche una cosa, questo è un progetto iniziale da un milione e mezzo, noi contiamo di metterci altre risorse, altre risorse. Il sindaco su questo è un precursore, ti posso assicurare, assolutamente. Gli uomini della Guardia di Finanza della Compagnia di Giulianova, a seguito di mirate indagini, hanno interrotto un rifornimento di eroina destinato al consumo locale e proveniente da fuori regione. Sono stati sottoposti a sequestro 101,5 grammi di droga ed eseguito l'arresto di un pusher residente nelle Marche. La sostanza stupefacente, già tagliata con altre sostanze e quindi preparata per lo spaccio, era pronta per essere venduta sul litorale di Giulianova. L'attività preventiva e repressiva, come di consueto, procederà ulteriormente anche nelle festività in tutta l'area provinciale. Sulla costa dei Trabocchi ha preso il via un progetto sperimentale di mobilità sostenibile. Attivate le cosiddette bike stations, dove poter noleggiare biciclette per l'intera giornata. Ferragosto in bici ha l'insegna della mobilità sostenibile lungo tutta la costa dei Trabocchi, con la partenza delle bike station nelle stazioni ferroviarie di Francavilla, Tollo Canosa Sannita, Ortona, San Vito Chietino, Fossa Cesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Porto di Vasto e Vasto, San Salvo. A disposizione decine di bici da noleggiare al costo di 10 euro giornalieri, chi presente il biglietto del treno o del bus paga la metà. Le immagini si riferiscono all'appuntamento di San Vito Chietino con l'incontro dei promotori del progetto di Green Mobility, pensato nell'ambito del contratto di costa e che vede protagonisti, la Camera di Commercio Chieti-Pescara, insieme al Gal Costa dei Trabocchi, il Polo inoltre e il Lega Ambiente, in collaborazione con Regione Abruzzo. Emiliano Bozzelli, sindaco di San Vito. Io direi che motivo di grande soddisfazione è l'inaugurazione di questa bike station, è un ulteriore passo in avanti verso quella che ho appena detto, si tratta di mobilità to-cour, non mobilità sostenibile, perché per le particolari caratteristiche del territorio, della costa dei Trabocchi, io credo che non ci sia alternativa a questo tipo di mobilità, che a questo punto è l'unico modello e non un modello di mobilità sostenibile. Un ruolo importante anche quello della rete ferroviaria italiana, che insieme a Lega Ambiente ha dato vita e ruolo alle bike station in Abruzzo, come elemento di centro servizi per il territorio, punto informativo turistico e hub di accesso alla mobilità sostenibile. Giuseppe Di Marco, presidente regionale Lega Ambiente. Un progetto importante che rafforza la collaborazione con RFI, che ci ha messo a disposizione gli spazi ferroviari e Trenitalia per quanto riguarda le agevolazioni per i possessori del titolo di viaggio che potranno poi noleggiare questi bici a prezzo agevolato. È una realtà importante perché ci permette di rendere sostenibile la mobilità a partire da Pescara a Vasto San Salvo e in più ci permette di ragionare in modo attento sulla Cossa dei Trabocchi, che sarà breve attenzionata anche dall'apertura della Via Verde. Un modello dell'assoluto interesse che vuole così cambiare la mobilità e la qualità della vita, oltre che rappresentare un potenziale spazio di sperimentazione di sistemi di sharing mobility, mobilità e micromobilità elettrica sempre più articolati e funzionali ad una migliore vivibilità dei luoghi. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.costadetrabocchimob.it. Lido Legnini, vicepresidente, Camera di Commercio, Chieti Pescara. Negli ultimi anni la mentalità stia un po' cambiando. D'altronde parliamo di una destinazione turistica che si caratterizza proprio per il suo ambiente, per essere un ambiente appunto naturale e quindi non possiamo pensare di arrivare in spiaggia con la macchina, tra l'altro se non altro proprio per mancanza di parcheggi. Per cui è necessario ripensare anche il nostro modo della mobilità, di approccio a una destinazione di questo tipo e questo progetto va in questo senso. Ricco cartellone di eventi in occasione della perdonanza celestiniana, edizione speciale per l'Aquila a dieci anni dal sisma. Si siberanno artisti di fama nazionale e internazionale, il Volo, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Enrico Brignano, Noemi e tanti altri. Il servizio di Luciana Celeste. La 725esima perdonanza celestiniana è alle porte. Il 23 agosto sarà la giornata iniziale, nel piazzale della Basilica di Collemaggio, alle ore 20 e 30, con l'accensione del tripote che darà al via la 725esima perdonanza. Alle 21 e 30, all'Aquila, la terra, le radici, la rinascita. Ideato da Leonardo Di Amici, se è scritto con Paolo Logli. Conduce Lorena Bianchetti. Sul palcoscenico si avvicineranno artisti del calibro di Gianni Morandi, Giancarlo Giannini, Paolo Vallesi, Simona Molinari, Piero Mazzocchetti, Stefano Di Battista, Vittoriana Di Amici e Franco Nero. Con il premio Oscar, Vanessa Redgrave. La colonna sonora sarà dell'Orchestra Nazionale dei Conservatori d'Italia e Cori. Il 24 agosto, alle 21 e 30, in Piazza Duomo, Shine Pink, Pink Floyd. Viaggio nel mondo della luna. Il 25 agosto, a partire dalle 21 e 30, nel piazzale di Collemaggio, Enrico Brignano, in un'ora sola, Vi Vorrei. Il 26 agosto, alle 21 e 30, nel Teatro del Perdono, sempre nel piazzale di Collemaggio, Il Volo per l'Aquila. Sul palco, anche la Grande Orchestra Sinfonica dei Conservatori, diretta dal maestro Leonardo D'Amicis. Il 27 agosto, sarà il momento di L'Aquila Suona, un viaggio itinerante nella città dell'Aquila, con musica in tutto il centro storico. Il 28 agosto, ci sarà il corteo storico e apertura della Porta Santa. Nella notte, lettura dei testi sacri nella Basilica di Collemaggio, con musica dal vivo. Per concludere, il 29 agosto, alle 22, nel piazzale di Collemaggio, gran concerto, capitanato da Fiorella Mannoia, che avrà accanto a sé artisti come Luca Barbarossa, Paolo Aturci e Noemi. Sul palco, insieme alla band della Mannoia, suonerà l'orchestra del Conservatorio dell'Aquila Casella, diretta dal maestro Leonardo D'Amicis. La perdonanza di quest'anno è una perdonanza importante, riguarda il decennale, il terremoto, per cui l'argomento e i contenuti inevitabilmente passano da questo appuntamento, questo estratto conto, questa linea che si tira dopo dieci anni per capire dove siamo arrivati e dove stiamo andando. È un omaggio d'amore, d'amore profondo per questa città, l'Aquila rinasce. Sembra uno slogan, ma è veramente da qui che mi piacerebbe ripartire, da questa frase, l'Aquila rinasce. Sono calcolati in 1,6 milioni di euro i danni provocati dalla grandine che il 10 luglio scorso colpì, tra gli altri, il territorio di Fossacesia, un disastro tra parabrezza di auto sfondati e tegole rotte sui tetti. Il servizio? Supera il milione e 600 mila euro l'ammontare dei danni segnalati al comune di Fossacesia dai cittadini e comunicati dagli uffici comunali competenti alla regione, provocati dalla grandinata del 10 luglio scorso, evento eccezionale con picchi grandi come palline da tennis. Nello specifico i danni riportati alle abitazioni sfiorano i 700 mila euro, idem quelli subiti dalle autovetture alle attività produttive e poco meno di 180 mila, alle attrezzature scorte legate alle attività produttive circa 59 mila euro. In frantumi, in occasione dell'evento meteo che colpì la costa abruzzese nel primo pomeriggio, lunotti, pannelli fotovoltaici, vetri, tegole, devastate serre e coltivazioni ortofrutticole, il sindaco di Fossacesia di Giuseppe Antonio, nelle ore successive alla violenta grandinata, aveva subito chiesto alla regione e al governo nazionale il riconoscimento dello stato di calamità naturale. La giunta regionale, afferma il primo cittadino, nei giorni scorsi ha deliberato di richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Dipartimento della Protezione Civile la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi calamitosi del 10 luglio scorso. La speranza è che ora la richiesta venga accolta, così da procedere al ristoro dei danni. Il Comune di Nereto si aggiudica la finale regionale per l'Abruzzo di Miss Italia, si terrà mercoledì 21 agosto alle ore 21. Quest'anno la manifestazione torna dopo diversi anni in prima serata sul Rai 1. La vincitrice della finale di Nereto accederà di diritto alla finalissima del 6 settembre condotta da Alessandro Greco. Nereto ospiterà la finalissima regionale di Miss Italia per eleggere la Miss Abruzzo che accede di diritto alla finale nazionale di Esolo, quest'anno che torna sul Rai 1 in diretta nazionale. La PAI è l'esclusivista per Marche Abruzzo, che cosa accadrà a Nereto? A Nereto quest'anno si svolgerà la finale di Miss Abruzzo, la reginetta dell'Abruzzo per un anno e la ragazza che vincerà a Nereto da quest'anno tornerà in Rai e quindi parteciperà insieme a tutte le altre concorrenti. Quest'anno Miss Italia compie 80 anni, saranno 80 le concorrenti che parteciperanno alla finale sul Rai 1. E quindi una buona visibilità per Nereto che avrà la sua ragazza sul Rai 1. E' importante sottolineare che la serata di Rai 1 sarà una serata nazionale che permetterà a tante ragazze di trovare la giusta visibilità. La speranza, come era già accaduto lo scorso anno per le Marche, che possa davvero questa volta trovare nella regione d'eccellenza d'Italia, nel centro Italia, la propria soddisfazione in termini di bellezza. Sì, certamente noi ci speriamo sempre. Come l'anno scorso abbiamo avuto questa incoronazione per le Marche, Carlotta Maggiorana e anche quest'anno si spera che la ragazza che vince possa essere del nostro territorio, questo ce lo auguriamo sempre. Finale col botto per la città di Nereto, che ha un ricco cartellone, aggiunge un evento quasi sul finire dell'estate, la finale regionale di Miss Italia. Come diceva lei, abbiamo colto questa opportunità per il nostro territorio, ma non solo per Nereto, ma per l'intera Val di Brada, perché ospitare una finale regionale del concorso di bellezza, il concorso di bellezza in Italia è Miss Italia, poi tra l'altro quest'anno ritornerà anche la finale sul Rai 1, una finale regionale da modo e opportunità anche magari ai turisti presenti in Val di Brada, sui comuni riveraschi, di conoscenza anche del nostro territorio, delle nostre peculiarità, delle nostre vocazioni, non solo monumentali, ma anche di natura enogastronomica. Sarà sicuramente una bella serata, il 21, mercoledì, alle 21. Io ringrazio l'Agenzia PAI per aver dato questa opportunità al nostro comune e anche alla nostra comunità in termini appunto di vivere un momento nuovo per noi, perché è la prima volta che abbiamo una finale regionale. domenica scorsa si è svolta la ventunesima edizione del Certame della Contea di Popoli, grande successo per una manifestazione che ha impegnato fra gli altri 100 figuranti del gruppo locale. Servizio. Andrea Marino, successo di pubblico per questo Certame e per questa serata? Sì, una bellissima serata che da come avete potuto apprezzare è iniziata con la bellissima accensione della piazza seguita dal tiro dei balestrieri, dopodiché abbiamo apprezzato i bravissimi musici e sbandieratori di Popoli e una bellissima esibizione dei trampolieri e dei trombonieri di Cava dei Tirreni. Ovviamente lo spettacolo serale è stato uno spettacolo basato sui colori e sui fuochi ovviamente. Bellissima l'esibizione della compagnia teatrale che quest'oggi ha fatto uno spettacolo veramente bellissimo e ovviamente poi giochi pirotecnici. Ovviamente è stata una manifestazione molto difficile da organizzare, abbiamo gestito quasi 300 figuranti provenienti da Lanciano, Sulmona, Cava dei Tirreni e ovviamente il gruppo Casalingo però è sempre una grande soddisfazione perché soprattutto i cittadini apprezzano e i turisti ci fanno sempre i complimenti e ci chiedono di continuare la tradizione. Una tradizione anche quella che riguarda gli sbandieratori perché qui a Popoli c'è una grande tradizione. Abbiamo visto anche l'esibizione di una bambina di 12 anni, una ragazzina di 12 anni che tra le prime classificate della sua categoria è a livello nazionale. Sì, allora a Popoli abbiamo iniziato con gli sbandieratori nel 1999. Io ho l'onore di essere stato uno dei primi quattro sbandieratori di Popoli e siamo arrivati ad oggi, abbiamo fatto dei grandissimi progressi. Ci siamo iscritti nel 2013 nella Federazione Italiana Sbandieratori, la FISB e partecipiamo appunto dal 2013 a gare nazionali. Diciamo che risultati eccelsi li abbiamo raggiunti con i ragazzi piccoli ovviamente perché è uno stile di sbandierata molto difficile, avete potuto vedere, quasi paragonabili a giocoglieri questi sbandieratori, un vero e proprio sport. E quindi i bambini vanno allenati sin da piccoli e noi abbiamo la fortuna di avere molti bambini, una delle scuole di sbandieratori più grande d'Abruzzo e speriamo di continuare sempre così. Una città di Popoli che veramente grazie a voi è conosciuta veramente ovunque. Eh sì, grazie. Infatti esportiamo ed esporteremo nei prossimi giorni il nome di Popoli in moltissime città abruzzesi ma anche in Italia. Una delle uscite più belle che facciamo è l'uscita di Ischia nella festa di Sant'Alessandro che ci sarà il 25, 26 e 27 agosto. Noi saremo presenti e siamo molto felici perché ha una grande rilevanza a livello nazionale. Complimenti. Grazie. Ed ora apriamo la pagina dello sport e lo facciamo con la Serie B ed il Pescara dopo essersi imposto su Vastese e Pineto nel triangolare pre-ferragosto. Il Pescara è proiettato al match di Team Cup di domenica sera ad Empoli, gara per la quale è stato designato Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Sarà il primo test contro una parigrado, l'ultimo prima del debutto in campionato a Salerno di sabato 24 agosto. Per il match del Castellani sono 798 italiani disponibili per il settore Curva Sud, ospiti e acquistabili presso il circuito Viva Ticket. A fare il punto della situazione in casa Pescara, proprio in vista della partita di Empoli, è l'esperto centrocampista Alessandro Bruno. Domenica si aspetta una partita bella e difficile. L'Empoli è una squadra che è composta da giocatori forti che sono costruite per vincere. Noi andremo lì con tanta voglia di dimostrare, di fare bene. Abbiamo lavorato tanto in questo ritiro, siamo bene. È una squadra quasi tutta nuova, quindi ci stiamo conoscendo e credo che stiamo andando avanti a passo spedito. Come sta proseguendo questa marcia di avvicinamento al campionato? Una crescita graduale, come è giusto che sia nel calcio d'estate ad agosto? Sì, gradualmente. Ci sono i carichi di lavoro, quindi ancora non si possono vedere delle grandi giocate che comunque proviamo in allenamento. Domenica cercheremo di mettere in pratica ciò che il mister ci dice in settimana, cercando di farlo con più intensità e con più determinazione. Questo è anche il periodo del mercato, non ti riguarda direttamente, però ci sono dei giocatori che potrebbero andare via e altri che dovrebbero arrivare. Ma sì, questo è il periodo di mercato. Se devono arrivare giocatori forti, ben vengono, noi siamo contenti. Devono sapere perché arrivano in un gruppo che lavora tanto, lavora bene, quindi i giocatori forti che arrivano si devono adeguare a questa mentalità, perché questa è la mentalità che il mister ha cercato di inculcare a questa squadra. Giocatore esperto, ti chiedo come stai vedendo come allenatore Luciano Zauri alla prima esperienza su una panchina di una squadra professionista? Prima che l'allenatore è un amico a Luciano, quindi dal mio punto di vista sta facendo molto bene, perché comunque ha dei concetti di gioco buoni, ha delle trame di gioco positive, ci dice di stare sempre corti e sempre aggressivi e queste sono caratteristiche importanti per far sì che il sabato fai delle partite importanti. Alessandro Bruno è pronto anche nella prossima stagione a ritagliarsi il suo spazio, uomo spogliatoio soprattutto. Io sono a disposizione del mister, qualsiasi cosa voglia fare il mister io sono a disposizione, io lavoro sempre con dedizione, volontà e cerco di farmi trovare sempre pronto. E ora la Serie C, Simone Magnaghi è un nuovo giocatore del Teramo, l'attaccante ha firmato ieri nella giornata di Ferragosto ed arriva in prestito fino a giugno dal Pordenone, società con la quale è sotto contratto fino a giugno 2021. Sempre col Pordenone Magnaghi ha giocato le ultime due stagioni, totalizzando 65 presenze e 12 reti, una delle quali realizzate al Teramo sul finale dell'ultimo campionato nel quale Magnaghi ha centrato la promozione in B con i Ramarri. Sempre dal Pordenone il Teramo continua a seguire il 29enne trequartista Francesco Bombaggi che non rientra nei piani della squadra e da alcuni giorni si allena a parte. Il Teramo intanto continua a lavorare a Torricella Sicura, domani rifinitura e partenza per Gubbio dove il Diavolo disputerà la seconda gara del triangolare di Coppa Italia di Serie C. E ora scendiamo in Serie D, a tratto buone indicazioni dal triangolare di Vasto, il tecnico del Pineto Massimo Epifani, superati i padroni di casa con un gol di Pippi. L'allenatore pinetese parla degli ampi margini di crescita della squadra e del fatto che molti addetti ai lavori inseriscano il Pineto tra le favorite del Giron F. Vediamo il servizio. Pineto, Recanatese, Campobasso, Matelica, le favorite sono queste? Me lo auguro, perché se ci siamo anche noi me lo auguro. Noi ci avviciniamo al campionato, stasera è stata un'altra tappa di avvicinamento. Credo che stiamo migliorando veramente con molto piacere, però dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo arrivare alla prima partita di campionato con le idee chiare e cercare di fare un grande campionato. Cosa ti ha soddisfatto fino ad oggi e cosa invece ti aspetti ancora dalla tua squadra? Mi ha soddisfatto il modo di giocare, il modo di andare in avanti, stiamo facendo passi da gigante, dobbiamo ancora lavorare un po' meglio sulla fase di non possesso, però credo che ci vuole il tempo che ci vuole, ma oggi sono veramente contento, perché anche oggi il primo tempo con la vastesa abbiamo fatto un grande primo tempo, poi la seconda partita con il Pescara logicamente l'impegno era maggiore, ripartire dopo 45 minuti ferma era un po' più difficile, però è stato un buon test anche la seconda partita. Per chiudere Massimo, tornando al campionato, partire con i galloni di favoriti può essere a punto di vista psicologico un problema per questa squadra? Ma essendo in giro che parlano sempre del Pinetto, ma non c'è solo il Pinetto, ci sono altre squadre, sappiamo di aver listito una squadra importante, cercheremo di lottare e di rimanere davanti fino alla fine, cercando di giocarci qualcosa di importante oggi che vince il campionato, però il campionato è difficile e quindi il fatto di avere adesso la pressione addosso, perché leggiamo tutti quanti quello che si scrive oggi sui giornali, deve essere un motivo d'orgoglio per la società, un motivo d'orgoglio per i ragazzi e dobbiamo combattere anche questo tipo di pressione, però credo che sia una pressione bella. Tutti i servizi che avete visto a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it Prossime edizioni del nostro telegiornale alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto. Grazie per averci scelto.